Parleranno della dentiera della madre, figli adulti e genitori, che altro vuoi che abbiano da dirsi? Non ti perdi proprio niente. Allora, oltre al lavoro che cosa combini? Non molto. Mi dai sempre la stessa risposta, non molto. Perché è quella giusta. C'è qualche donna nuova di cui vuoi parlarmi? Lascialo in pace, John. Ho una moto nuova. L'avrai vista qua sotto? Arancione, con delle scritte enormi. È quella nel parcheggio per i disabili? Sì. È orrenda, ma è una gioia guidarla. Sarai prudente, vero? Ricorda che hai la fortuna di avere ancora due gambe. Veramente ne ho tre. Sai qual è il tuo problema? Il cambio delle marce? Proprio non sai quanto sei fortunato. Dov'è il bagno? Almeno ci siamo chiariti. Vedi, lui, lui vorrebbe aiutarti. Non mi serve aiuto. Lo so. Tu sei assolutamente perfetto così come sei. Già.